condotto l'iniziato al cospetto di colui con il quale è in rapporto da innumerevoli età e avendo risvegliato in lui l'incontrollabile realizzazione dell'unità della vita fondamentale che si manifesta mediante tutte le vite minori la successiva importante rivelazione è la visione la prima rivelazione riguardava ciò che è indefinibile illimitabile e per la mente finita infinito nella sua astrazione ed assolutezza la seconda rivelazione concerne il tempo e lo spazio ed implica il riconoscimento dell'iniziato mediante il senso della vista occulta appena risvegliato della parte che ha svolto e che dovrà svolgere nel piano divino e poi del piano stesso per quanto riguarda il suo ego il suo gruppo egoico il suo gruppo di raggio e il suo logos planetario queste quattro conoscenze indicano la graduale presa di coscienza realizzata durante le quattro iniziazioni che precedono la liberazione finale alla prima l'iniziato divenne esattamente consapevole della parte relativamente esigua che deve svolgere nella sua vita personale tra il momento della rivelazione e la seconda iniziazione periodo che può includere una o più incarnazioni e li conosce l'indirizzo che dovrebbe prendere e si rende parzialmente conto della propria partecipazione a servizio dell'umanità vede il piano nel suo insieme nel quale egli non è che un piccolo mosaico entro il grande disegno generale si rende conto di come può servire con il suo tipo particolare di mente con le sue dote mentali e di altra natura con le sue varie capacità e di ciò che deve compiere prima di poter nuovamente stare al cospetto della presenza e ricevere una più vasta rivelazione alla seconda iniziazione gli viene mostrata la parte che il suo gruppo egoico svolge nello schema generale egli diviene maggiormente consapevole delle diverse unità di gruppo con cui è essenzialmente associato sa chi sono personalmente se incarnate e vede alcuni rapporti carmici fra carmici fra gruppi individui e se stesso ha una visione dello scopo specifico del gruppo e del suo rapporto con altri gruppi ora può agire con maggiore sicurezza e i suoi rapporti con gli altri sul piano fisico diventano più sicuri può aiutare sia gli altri che se stesso ed esaudire il karma affrettando la liberazione finale i rapporti di gruppo vengono consolidati e piani e propositi possono essere attuati con maggiore intelligenza il graduale consolidamento dei rapporti di gruppo produce sul piano fisico l'attività concertata e la saggia unità di proposito che consentono di materializzare gli ideali superiori e di utilizzare la forza per promuovere i fini evolutivi con saggezza quando ciò è giunto ad un certo stadio le unità che compongono i gruppi hanno imparato a lavorare unite stimolandosi reciprocamente ora possono procedere verso un'ulteriore conoscenza che conferirà loro maggiore capacità di aiutare alla terza iniziazione gli viene rivelato il proposito del sottoraggio del raggio cui appartiene quello dell'ego tutte le unità egoiche appartengono ad un sottoraggio del raggio monadico tale conoscenza viene trasmessa all'iniziato affinché gli possa col tempo scoprire da sé lungo la linea di minor resistenza il raggio della sua monade quel sottoraggio include nella sua corrente di energia molti gruppi di ego e perciò l'iniziato è ora consapevole non solo del proprio gruppo egoico e del suo proposito intelligente ma di molti altri gruppi di analoga composizione la loro energia unita opera verso una meta chiaramente determinata possedendo qualche conoscenza dei rapporti di gruppo e avendo sviluppato la capacità di lavorare in formazione di gruppo ora l'iniziato apprende il segreto di subordinare il gruppo al bene di un complesso di gruppi sul piano fisico questo si paleserà come capacità di operare con saggezza intelligenza ed armonia con molti tipi umani diversi e di cooperare a vasti piani ed esercitare un'ampia influenza all'iniziato viene rivelata una parte dei piani del logos planetario e la visione comprende la rivelazione del piano e del proposito riguardanti il pianeta sebbene tale visione sia velata per quanto riguarda i rapporti interplanetari ciò lo conduce per graduali realizzazioni alla soglia della quarta iniziazione essendosi completamente liberato dalle limitazioni dei tre mondi e avendo spezzato tutti i legami del karma ora la visione è molto più ampia e si potrebbe dire che per la prima volta diviene consapevole del proposito e del karma planetario in tutta la loro vastità esaurito il karma personale relativamente poco importante ora può dedicarsi ad eliminare il karma planetario e ai vasti piani della grande vita che include tutte le vite minori perviene non solo al pieno riconoscimento dei propositi e dei piani per tutte le evoluzioni dello schema planetario terrestre ma la sua conoscenza si estende allo schema planetario complementare o al suo polo opposto si rende conto della correlazione esistente fra i due schemi e il vasto proposito di entrambi gli viene rivelato gli viene mostrato come questo duplice proposito debba diventare un piano unitario e d'ora in poi dirigerà tutte le proprie energie alla cooperazione planetaria che si attua operando con le due grandi evoluzioni del nostro pianeta umana e dedica e attraverso di esse questo richiede certi adattamenti e la graduale applicazione dell'energia per stimolare i vari regni della natura affinché la fusione di tutte le forze naturali acceleri lo scambio di energie fra i due schemi in tal modo i piani del logos solare che devono attuarsi per opera di due logo i planetari possono compiersi ora all'iniziato è concesso usare l'energia solare in piccola misura ed è ammesso non solo ai concili della propria gerarchia ma anche convegni con il signore del mondo e i due grandi capi di dipartimento cui partecipano delle entità provenienti da altri schemi planetari alla quinta iniziazione la visione offre una prospettiva ancora più ampia e l'iniziato vede un terzo schema planetario che con gli altri due forma uno dei triangoli di forza necessari all'evoluzione solare come ogni manifestazione procede per procede per dualità e triplicità fino alla sintesi finale così questi schemi che altro non sono se non centri di forza nel corpo di un logos solare operano prima come unità separate viventi la propria vita integrale poi come dualità mediante lo scambio di forza fra i due schemi in tal modo aiutandosi stimolandosi e completandosi a vicenda e infine come un triangolo solare in cui l'energia circola da un punto a punto e da centro a centro fino a fondersi e sintetizzarsi in modo che i tre operino come un tutto unico quando l'adepto della quinta iniziazione può lavorare in armonia con i piani di questi tre logo i planetari cooperando con essi con competenza sempre maggiore col passare del tempo si rende idoneo alla sesta iniziazione che lo ammetterà a conclavi ancora superiori e li parteciperà a propositi solari e non più solo a quelli planetari alla sesta iniziazione gli è concessa la più stupenda di tutte le visioni vede l'unità del sistema solare e la fugace rivelazione palesa alla sua stupefatta comprensione il proposito fondamentale del logos solare per la prima volta vede i piani nel loro complesso e in tutte le loro ramificazioni alla settima iniziazione la sua visione penetra oltre l'anello invalicabile solare ed è lì vede ciò che da lungo tempo conosceva teoricamente come fatto fondamentale ossia che il nostro logos solare partecipa a piani a propositi di un essere ancora di un essere ancora più eccelso e che il sistema solare è solo uno dei numerosi centri di forza mediante i quali un'entità cosmica molto superiore al nostro logos si manifesta un grandioso proposito sottostà a tutte queste visioni la rivelazione dell'unità essenziale di rapporto interiore in base ai quali una volta conosciuti l'iniziato si dedicherà sempre più a servire con abnegazione completa e che faranno di lui uno di coloro che operano verso l'armonia verso la sintesi verso l'unità fondamentale durante la cerimonia di iniziazione la visione che si palesa all'iniziato affinché veda e comprenda si divide in tre fasi di un solo processo il passato si svolge dinanzi a lui che si vede quale autore di molte parti e comprende che hanno avuto per unico scopo di portare gradatamente le sue forze e capacità al punto di poter servire il gruppo e secondo la particolare iniziazione li vede e si identifica con se stesso in molte incarnazioni precedenti con il proprio gruppo in vite di gruppo precedenti con il proprio raggio egoico manifestantesi per molti cicli e con il logo sepranitario nel suo operare nel passato mediante molte evoluzioni e molti regni in tutto lo schema e così via fino alla propria identificazione con il passato dell'unica vita che fluisce attraverso tutti gli schemi planetari e tutte le evoluzioni nel sistema solare tutto ciò produce la risoluzione di esaurire il karma e di esaurire la conoscenza di come fare derivante dalla vista delle cause del passato chiaramente poi abbiamo il presente all'iniziato si rivela il lavoro specifico che deve essere compiuto durante il ciclo minore nel quale è coinvolto ic e tenunca qui e ora nel presente ciò significa che non solo vede ciò che lo concerne in una data esistenza ma sa quale è la piccola parte immediata del piano che include forse parecchi brevi cicli o incarnazioni che il logos planetario intende sia compiuta ora egli conosce chiaramente il proprio lavoro e può cingersi al compito con una piena coscienza del perché del come e del quando e poi abbiamo il futuro a titolo di incoraggiamento all'iniziato è accordato una visione del compimento finale glorioso oltre ogni possibile descrizione alcuni punti salienti ne indicano le fasi principali per un istante egli vede la gloria quale sarà il sentiero di radiosa bellezza che splende sempre di più fino alla perfezione nei primi stadi vede la gloria del proprio gruppo egoico perfezionato poi la radiosità emanante dal raggio che reca in sé gli uomini perfetti di un particolare colore e tipo indi gli valena dinanzi la perfezione del grande essere che è il suo logos planetario e tutta la bellezza e tutta la radiosità di tutti gli altri raggi di luce il sole che splende nella propria forza il logos solare nell'istante del compimento del suo proposito